Beh certo, insomma, chi è in radiovisione già avrà riconosciuto. Beh, Francesca Michielin che salutiamo. Ciao Cara, come stai? Ciao Franci! Ciao a tutti, molto bene. Beh, e sei ben accompagnata perché insieme a te c'è il cast di un film molto molto carino insomma di cui vogliamo chiacchierare quest'oggi. Però io direi che se il cast da solo si presenta, di questi ragazzi molto belli, molto freschi e molto bravi, chi siete? Beh, io sono Luigi Fedele, ciao a tutti e nel film interpreto il ruolo di ferro. Ciao, io sono Brugiascini e nel film Piuma, appunto, sono Kate per l'agrofrancione. E io sono il regista Rohan Johnson, nonostante il nome, insomma, sono... Allora, benvenuti a The Flight su RTL125, questo film che si intitola Piuma e che racconta la storia di giovanissimi alle prese con un'impresa più grande di loro, no? Sì, in realtà è una commedia corale perché parte tutto appunto dalla nostra Caterina Dettacate che rimane incinta di fronte a una scelta abbastanza difficile perché o lo fa questo bimbo in un momento della vita sbagliato o potrebbe non farlo mai più. E quindi lo tengono e questo arrivo di questa bimba è una sorta di piccola palla di neve che scende dalla montagna e diventa una valanga che va poi a travolgere tutti gli equilibri di due famiglie perché poi il film appunto parte da loro che hanno 18 anni, arriva nonnolino che ne ha 80 passando poi per le famiglie con le generazioni intermedie. Quindi diciamo un grande affresco, divertente, ironico, corale di famiglie di oggi. Io tra l'altro mi sono portato anche una paperella oggi perché simboleggia un po' importante per il film perché simboleggia un po' l'idea del galleggiare, no? Del rimanere a galla di fronte alle avversità della vita, no? Giusto? Sì, esattamente. È una storia che racconta ferro che ora ci può raccontare con il suo fantastico accento un po' romanesco. È una storia vera successa realmente perché nel 92... Nel 92 da Hong Kong salpa praticamente questo cargo che trasporta merci in America e dopo pochi giorni di traversata questa nave naufraga perde il suo carico che sono 28.000 paperelle gialle di plastica e quindi la paperella simboleggia in un certo senso anche un po' una metafora rispetto alla vita che viviamo tutti i giorni perché ci fa capire che anche di fronte a una sventura così grande come può essere quella di un naufragio come può essere anche quella che si trovano a dover affrontare ferro e cate si possono comunque avere dei risvolti positivi e quindi si possono studiare grazie al galleggiare di questa paperella le correnti marine e quindi anche gli oceani. E quindi una piccola paperella che era stata fatta per stare in una vasca da bagno e invece alla fine solca i mari lì. Beh certo, me la ricordo questa cosa, questa notizia. Ok, da queste paperelle poi, da questa cosa fortuita gli scienziati hanno calcolato e visto anche gli spostamenti, le correnti come stava cambiando il clima e in questo caso cambia la vita di queste persone poi. Esatto, esatto. Poi tra l'altro è uno dei temi, diciamo, questo dell'acqua e della paperella che abbiamo usato anche nel video di almeno tu, di Francesca e che forse ci vuole un po' raccontare anche lei com'è che l'ha vissuta, diciamo, questa metafora dell'acqua e dei galleggiari sopra la città, i casini. Sì, beh, la realizzazione del video è stata abbastanza complessa e veramente ogni volta che lo guardo... in realtà è venuto benissimo, mi ricordo la sofferenza di tutti a fare tipo il moto sincronizzato, è stata una bellissima esperienza e il video è molto bello perché appunto ci siamo noi che galleggiamo sopra la città e quindi in un certo senso stiamo in una prospettiva diversa rispetto al solito siamo, guardiamo oltre i problemi, siamo sopra un po' tutti, tutto il casino che è al mondo come dice Ferro e quindi viviamo la vita con leggerezza che non è appunto superficialità ma anzi essere paradossalmente molto intelligenti e affrontare la vita con i giusti... Bello, allora io direi che alla Zacci sentiamo il trailer e subito dopo ci ascoltiamo anche la canzone Francesca e Michelina Niente, ma mi è successa una cosa Grave? Bel po' Eh, che avete combinato? Ma non fa il casino, eh Mi sono tornati alla vita Tu dovete rinunciare a tutti Ma quale parocco? Cioè ci sono tutti che ci stanno dicendo è stata affanacazzata, è stata affanacazzata E che cosa? È in città In effetti forse stiamo affanacazzata Ma chi gli era fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma che hai fatto? Non è stata riuscire Ma bisogna teniccelo per forza Ma lei non è così al po' meglio E' un tricito, l'ha dato Ma senti questo per criceto Ma voi metti in figlio con criceto Ma ci dà per piacere Non lo so, forse ora è il momento Un pochino ci dovremmo agitare E no, è che si fa E non lo so Voglio portarli in casa, da noi, sopra Brava, aiutiamoli Ma se c'è qualcuno che San Marco mette sempre i servati o Quello è il vostro vino Sabe che siamo in questa notizione? Perché siamo in questa notizione? Perché ti ha questo figliolo Con un'irazzata paceva E parliamo, risiediamoci Intorno a Tampolino Tanto solo tu non sbagli mai Magari se non sbagliamo mai Tutti i popoli è morto E noi dici Babbo, vai che ammazza Io go sotto una macchina Sotto un cane Sotto un treno Ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare Ma ti preghi un do qualcosa di questa ragazzina? No, ma stai scherzando? Ma certo che mi freghi tutto questo Lo sto a fare per lei e per te Adesso vi faccio vedere il cuore Senti Sento sì, ma che sta a fare da dentro? Non sta a cuore Dattelo Sempre a far cazzone Dalla mattina a sera Poi ti succede una cosa che non ti aspetti E ciò Hai capito che la vita è bella? Ma il cazzo stai Ma il cazzo stai C'è dove un nome che è tipo una varia nonce Deve essere leggera Deve essere tipo Tipo una piuma Ecco piuma se dovrebbe chiamare E la prossima volta se succede qualcosa A me le dici sono le cazzate